Ad essere inadempiente l'Assemblea territoriale idrica non certo a Girgenti Acque. Si può sintetizzare così il dossier da 87 pagine frimmato dall'Avvocato Gaetano San Giorgi del Foro di Palermo a cui l'ente gestore si è rivolto per resistere all'annunciata risoluzione del contratto di gestione delle risorse idriche. L'elenco è lungo e va dalla mancata integrale consegna delle reti, degli impianti, delle fonti sorgentizie ricomprese nel piano d'ambito. Ricordiamo che Girgenti Acque gestisce le reti di 27 comuni e non di tutti i 43 municipi agrigentini, per come previsto, all'inadempimento del concedente all'obbligo di determinazione e aggiornamento della stessa tariffa, cosa che avrebbe impedito, stando a quanto denunciato da Girgenti Acque, a procedere all'applicazione della tariffa d'ambito nel periodo 2008-2011, questione da cui è scaturita quella che viene definita inadeguatezza delle tariffe per il periodo compreso tra il 2012 e il 2019. Evidentemente Girgenti Acque vuol significare che l'acqua sarebbe dovuta costare più di quanto è stata pagata dagli utenti. E ancora, tra gli inadempimenti controcontestati, se così possiamo dire, da Girgenti Acque a Lati, ci sono la mancata previsione di adeguati importi per il fondo nuovi investimenti, quelle riguardanti i progetti da realizzare su rete idrica, fognare e impianti di depurazione. C'è poi l'elenco di controdeduzione alle singole contestazioni fatte da Lati, dalla presunta omissione nella comunicazione delle variazioni della compagine sociale, alle interruzioni nel funzionamento dell'acquedotto, con particolare attenzione ai pozzi carboi, su cui però Girgenti Acque chiarisce di aver operato con diuturno impegno. Ma non è tutto, Girgenti Acque respinge anche le accuse di inadempimento sulle comunicazioni riguardanti la non potabilità dell'acqua e per tutti i problemi che, essendo oggettivi, non sono facilmente contestabili, l'ente evidenzia che gli inadempimenti contestati alla propria società discendono da situazioni generate da fattori non riconducibili a Girgenti Acque, ma che hanno quale con causa? Da un lato la vetustà delle reti e degli impianti, dall'altro le condotte del Lati che, scrive l'Avvocato San Giorgi, hanno impedito al gestore di attuare in pieno la convenzione e quindi di ottenere quel ritorno economico necessario nel caso a porre rimedio agli inconvenienti tecnici lamentati. Girgenti Acque chiede dunque una riunione preventiva prima che l'Ati decida per la risoluzione del contratto.